Ciao a tutti, bentornati su Happy Animal. Oggi vedremo 5 tipi di criceti. Il cricetus cricetus, il criceto cinese, il criceto russo, il criceto dorato e il criceto siberiano. Bene, allora possiamo iniziare. Il criceto cinese ha una taglia media o piccola di dimensioni varie. Il corpo è ricoperto interamente da una folta pelliccia con una pelle molto elastica, molto abbondante. Le zampe sono piuttosto corte. Il criceto russo è un animale con coda corta, occhi rotondi neri, orecchie piccole e rotondate, mentre gli arti anteriori sono dotati di quattro dita e quelli posteriori di tre. E poi la vista di questo criceto non è molto acuta. Ha una piccola coda di un centimetro e mezzo. La superficie anteriore delle zampe è priva di pelo e presenta dei cuscinetti molto evidenti. Come tutti i rovitori, questo è il criceto dorato, che possiede degli incisivi molto forti. Il criceto siberiano ha una coda corta, orecchie piccole e rotondate, piccoli occhietti neri e tondi. La vista di questo roditore non è infallibile, infatti tra i suoi sensi spicca sicuramente l'olfatto. E infine, eccolo qua, il criceto scriceto è un piccolo rodidore di 8-10 cm. La durata della sua vita è intorno a 2-3 anni. Ha la forma e raccolta la coda rotondata. Il pelo presenta varie colorazioni.